Trasformare i tuoi arbalete in sistemi ROYSUB in modo professionale, semplice ed estremamente economico da oggi è finalmente possibile grazie al kit transformer della ROYSUB. Professionale perché dietro ci sono 10 anni della ROYSUB che garantiscono la qualità e il risultato 100% ROYSUB. Facilissimo perché si monta direttamente sul foro della spina intestata, semplicemente allargandolo a 6 mm. Economico perché costa soltanto 49 euro, un prezzo pazzesco e imbattibile per garantirvi la qualità sul risultato 100% ROYSUB. E per festeggiare insieme 10 anni della ROYSUB ti offriamo il pacchetto kit transformer più gomme fusion 1 fai da te a un prezzo pazzesco di 69 euro. E se preferisci la versione delle gomme già allestite, c'è per te il pacchetto kit transformer più gomme fusion 1 allestite a soli 89 euro. Non perdere tempo, fai ora il tuo ordine sul sito ROYSUB.net direttamente dallo shop. Kit transformer 49 euro, pacchetto kit transformer più gomme fusion 1 fai da te 69 euro, pacchetto kit transformer più gomme fusion 1 allestite 89 euro. Questa è un'occasione da non perdere, questo è l'anno della ROYSUB. Tutti i tuoi arbalette possono essere trasformati in modo professionale, semplice ed economico grazie al kit transformer. Shocking the fish e shock in effetti